So prende fuoco tutto Ciao a tutti Bentornati su Anita Stories Oggi nuova challenge prova a non rimanere soddisfatto Challenge Prima di iniziare volevo dirvi due cose rapidamente Si mangia? No La prima cosa è Se notate qualcosa di diverso ho tagliato i capelli, non so se si vede bene, comunque grazie per i vostri consigli su Instagram, innanzitutto non li ho tagliati tantissimo, vedete sono ancora lunghi, però ho tolto le doppie punte e sono rinati. Ho fatto il ciuffo qua, li ho fatti un po' scalati davanti, vedete che cadono qua, ho chiesto consiglio appunto alla parrucchiera su come farli in base al mio viso e mi ha consigliato appunto questo taglio, in più li ho detto anche io che li volevo un po' scalati, ma mi ha consigliato di non farli scalati dietro per farli un po' più pieni, vedete? Cosa ne pensate? Scrivete nei commenti se secondo voi mi stanno bene o se stavo meglio prima. Sei bellissima Amore Allora, la seconda cosa che vi voglio dire è il mio bellissimo libro, quanto è bello, quanto è bello, allora queste sono le date del firma copie per il mio libro, mi raccomando sarà un'occasione unica per incontrarmi perché non so appunto quando torneremo in Italia e sì ci sarà anche Vitale che ve lo chiedete in continuazione Li vedo i vostri commenti che vi preoccupate se ci sarò oppure no, sì ci sarò Non vedo l'ora di vedere te, non me, i Vitalears, comunque non vi preoccupate ci saremo entrambi e appunto è un'occasione unica per incontrarci quindi mi raccomando non mancate, non vedo l'ora di incontrarvi e il mio libro è ora disponibile nelle librerie e su Amazon, se lo prendete nella libreria in cui ci sarà il firma copie vi daranno un pass e farete la fila prima. Se l'avete già preso su Amazon o in un'altra libreria non vi preoccupate potete comunque partecipare al firma copie però sarete dopo nella fila quindi non vi preoccupate in ogni caso lo firmerò il libro, non vi preoccupate e ora siete pronti? Iniziamo subito! Iniziamo! Allora sai di cosa si tratta? No, prova a non rimanere soddisfatto hai detto? Sì, che cosa vuol dire secondo te? Cibo? Prova a non rimanere soddisfatto con il cibo, quello sarebbe una bellissima challenge per me Cosa possiamo fare? Che mangiamo? Prova a non farti venire fame challenge No, ok, io ho già perso Tu hai sempre, tu hai sempre fame, in continuazione smetti di mangiare, ha fame lo stesso È vero, confermo Cioè, fatemi sapere se anche voi siete così Allora, iniziamo con uno slime, wow, è bellissimo questo slime Ma è un crunchy slime? Ah sì No vabbè, bellissimo Oddio Con la spu... Questo mi dà fastidio Fa brillare la pelle d'ora Non so, vuoi che effetto fa questo? A me dà fastidio Questi sono dei souffle slime Che cari Super teneri Oddio, c'era uno slime dentro Come fanno a metterli? Non lo so Questi sono altri souffle, però schiacciati con baracchie Che carini Stai iniziando a diventare violento, però Wow Tutto? Aggiungendo un milione di perline al clear slime Che cari È una sorta di jiggly anche questo Perché è già finito? No vabbè Un cookie slime Che figo Un souffle slime A forma di cookie Di biscotto con il cioccolato Ma lo mangierei subito, guarda Il biscotto con il cioccolato Cioè è un mojito slime Che strano Era un water jiggly slime Che si è un po' solidificato sopra Questo non mi piace Perché non è bellissimo Fa dei suoni bellissimi Ah, questo lo trasforma in un super jiggly Guarda che bello Ha messo anche il colorante In un super jiggly? Sì, ha preso uno slime normale Ha messo l'acqua calda, immagino Del colorante Poi lo scioglie dentro Lo riattiva Wow Wow È bellissimo questo Sì Sì, sì, questo mi piace Non ho capito Ecco, un water jiggly Wow Che bello Sembra acqua Questo ci piace Sì Wow Che dei suoni Che cos'è questo? Ah, con il guanto Con il colorante Ma Si è mucato? No Ah no, c'è lo slime dentro Non la colla Oddio, che disastro però Era bello Sì, strano In particolare È super rassante Che bello questo iceberg Che sono Ha dei colori super rassanti Sotto è bello Non so, mi dà sempre una sensazione strana Sotto Vedrli così gli iceberg Bellissimi Bellissimi Che è? Che è? Che bello Anche questo jiggly Un altro iceberg Wow Fa dei suoni stupendi Ho sentito un po' Non troppo in fretta Non so Questi mi fanno un po' L'effetto Pelle d'oca Sarà del rumore Anzi No, no, mi piacciono un sacco Bello Ma wow Questo è bellissimo È stupendo Adesso arriva di nuovo No, vabbè È incredibile questo slime È bellissimo Perchè si ritorrompe sui? Stai immergendo il microfono Cosa? Stai immergendo il microfono nello slime Ma esce fuori un suono stranissimo Sembra che qualcuno stia facendo Sembra che ci sia Magari è la voce dello slime Che risucchia il microfono Ma non ce lo vuole mangiare Pure lui Assurdo Pure dall'altro lato Adesso Che bello Bello Mi dà fastidio questa suona Anche a me dà fastidio Voi vi piace o mi dà fastidio? Wow Un pressing No Perché è il giubito? Ho fatto finto Un altro jiggly Ma sono stupendi Questi slime Sembrano le custodie dell'iPhone Sono stupendi Con questi colori Questo è di spinaci Slime spinaci La brittata di spinaci In effetti Sembrano Slime Sempre il cibo Sempre presi in giro Questi slime verdi Un altro jiggly Un altro jiggly Ok E' bellissimo Che cos'era? Che cos'era? Una candela Una candela Unicorno No Povero unicorno Era bellissimo Peccato L'unicorno affettato No Adesso lo scioglio Forse una candela Bello Che soni fantastici Verde Ovviamente Che è di antifricio Un altro souffle Questo cosa ti sembra Da mangiare Dimmi Cosa ti sembra Una polluta Di formaggio Queste quando tagliano Le saponete Fa un suono molto Bello Che figata Bello C'è C'è l'arcobaleno Dentro questa saponete Ma che figata è Molto bello Questa Non capisco Se è acqua Colla Credo sia slime E la saponetta Quella lì No Scusa La spugna Non è slime È proprio solo Acqua colorata Del suono dell'acqua Wow Questo va velocissimo Attenzione Adesso Adesso mi viene Il mal di testa Oddio Ovviamente È velocizzato Però Fa impressione Che bello Che è Clay Pezzo di sì Di tutti i colori Ha durato pochissimo Wow Tagliamelo Ma questo tagliamelo Perché ha questi lati Qua a fianco Per poterlo prendere Delle mani Ah giusto L'effetto Non era Che anche è Però Wow Oh Questo è bello È un gold slime Bellissimo Bellissimo Che bello questa Serna 8 No Era pieno di glitter Bellissimo No Che cosa succede adesso Prende fuoco tutto Questo è un arriccio cappelli Ed è anche caldo Molto caldo Però è pericolosa questa cosa Prendi la scossa Oddio Il guanto Ok Questo è un po' strano Devo dire Che cuore Un altro cookie La crostattina Wow Questo rumore di camion di tutto mondo Però Peccato No Vabbè È tutto È interessante Trena inglese Sì Wow È stato rilassato Che bello Rosa perla Wow Ecco un altro Che esplode Penso È un guanto È un guanto È un guanto È un guanto Sì Sarà slime Sì Però poi si sguidella tutto Non mi piace Ah che bello Wow Che suoni Questi sono già Di nuovo Velocizzati Ah sì Aiuto Sembra zucchero filato Bello Un maialino Che carino Sono slime Che bello Ora è disperato il maialino Perché verrà resucchiato Dallo slime Poverino No no Rimane a gallo Bello Cioè Ma l'effetto di colori È stupendo Wow È pure gloss Sotto Bellissimo Questa piace molto Che è girata Con un'esco Stai curioso? Un po' troppo forte Forse Pigmento Ah che quel colore Anche se è verde Però per l'auto È bellissimo Velocizzato Sembra bello però Uh Che bello Oddio Col coltello Questo sembra Un maialino Ma è un piatto È un piatto Sì Che carino Che carino Questa è blotti Wow Io penso che l'ha rovinato lo slime così Vediamo, magari diventa più bello Speri, guarda quanti colori Cos'è questa? È una spugna, è fichissima Ripetizione Queste con le uova non mi piacciono Che bello questo effetto di colori Ma sarà il pigmento pure questo? Questo sì, però quello sotto è, vedi, arancione e giallo sfumato, bellissimo Wow Wow È bello Però tutto Se non fosse il coperchio Anche io Un albero di metale? Davvero sì Bello però Cos'è questo rumore? È una mosca Oddio questa Non l'hanno mai vista con la carta argentata sopra Bello Che tazzo c'è l'eschiare, wow Rallentato Rallentato Facciamo rallentato Invece che Non ce l'ha neanche più il suono Oh che bello Sembra tipo una cipolla la forma Wow Ti muovo ancora? Sì Allora diverso Wow Vabbè il colore è pazzesco Wow, sì Metallizzato No Perché? Perché? Ma perché? Adesso è su Samsung Vabbè 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 Gigantesco Wow qua stavamo sull'aereo che bello ha fatto proprio il ghiaccio l'acqua con il ghiaccio che cuore sono incantato come si fa a raggiungere quel colore? nero color ciliegia e rosa assurdo cosa ho appena visto? poi parte la musica la saponetta senti senti allora ragazzi avete vinto o avete perso la challenge? noi abbiamo stra perso come avete potuto vedere tranne quelli con la spugna che mi davano troppo fastidio sì è vero quale ti è rimasto impresso? l'ultimo uno degli ultimi che abbiamo visto che era tipo nero amaranto rosa è vero bellissimo la sfumatura è bellissima ho mai visto oppure tutti quelli arcobaleno stupendi fateci sapere voi nei commenti quale vi è piaciuto di più lasciateci il timestamp quindi il minuto 2.48 insomma scrivete il minuto e magari quello più votato proveremo a riprodurlo però a me fanno sempre troppo ridere quelli là che lo fanno super velocizzato che sembra che sta tremando sembrano i demoniati mi fanno troppo ridere quelli là sì è vero allora ora vi lasciamo quattro caselline su cui cliccare per vedere le nostre altre challenge le nostre altre reazioni video divertenti cliccate su quella che preferite buona visione ciao